L'Aggiunto Comunale di Giarre ha approvato un progetto per l'utilizzo in lavori socialmente utili di 10 lavoratori in mobilità iscritti presso il Centro per l'Impiego di Giarre. La legge permette infatti alle pubbliche amministrazioni di utilizzare lavoratori titolari di trattamenti previdenziali, come mobilità o cassa integrazione, presentando la richiesta al Centro per l'Impiego di Appartenenza. Il progetto durerà sei mesi rinnovabili per altri sei e comunque non potrà superare il periodo di mobilità dei lavoratori stessi. Questi ultimi saranno impiegati per non più di 20 ore settimanali e al massimo per sei ore giornaliere. La loro attività presso il Comune non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né comporta la sospensione dalle liste di collocamento e sarà a costo zero per il Comune che dovrà solo pagare l'assicurazione. L'iniziativa non è una novità nel Comune di Giarre, anche l'amministrazione Buonaccorsi infatti avviò lo stesso procedimento ma per utilizzare lavoratori che si occupassero della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici e del verde pubblico. L'aggiunta d'Anna invece cerca 10 lavoratori specializzati o laureati in ingegneria, architettura, economia, giurisprudenza o lauree equipollenti o diplomati con la maturità classica, scientifica o il diploma in ragioneria o geometra. Affiancheranno i dipendenti comunali dell'area amministrativa, finanziaria e tecnica per coadiuvarli nelle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica. In sostanza servono lavoratori che aiutino ad esempio a rendicontare i progetti dei servizi sociali o nell'ufficio tecnico per la progettazione. Proprio il tipo di lavoro più ambito in un Comune che per le condizioni in cui si trova non può assumere.